Come la pensa su questi aumenti? Non si può ragionare più, non è possibile. Perché? Io logicamente cammino poco perché tengo 37 anni e la macchina dopo poco. Però non è giusto che deve andare a questa cifra un prezzo per la benzina, poi i gazzogli eccetera eccetera. Non è possibile vivere, assolutamente no. Quale soluzione secondo lei? La soluzione che darbassa tutto. La soluzione che stanno a fare solo un approfitto. Sono arrabbiati per usare un eufemismo gli automobilisti che anche in Abruzzo hanno visto lievitare il prezzo dei carburanti, benzina e gasolio in primis. E anche se da parte del governo c'è la volontà di adottare misure a favore dei consumatori e per calmirare i prezzi, lo scetticismo tra i cittadini regna sovrano. La cosa è preoccupante. Incide insomma. Beh direi proprio di sì, il pieno è aumentato tanto. Quale soluzione adottare secondo lei? Beh insomma intanto cominciare a diminuire le accise immediatamente per cercare di compensare e poi cercare di risolvere i problemi mondiali. Qui siamo nella stazione di rifornimento dell'ENI di Chietiscalo con qualche autovettura che sceglie il servito ma la maggior parte preferisce il fai da te per risparmiare. Anche gli stessi dipendenti si dicono demoralizzati. Pure noi siamo colpiti dall'aumento dei carburanti mentre gli automobilisti se la prendono manco a dirlo con il governo reo di non trovare da subito soluzioni. Insomma come dire gettano benzina sul fuoco. E già non è solo l'aumento della benzina. Aumenta tutto. I pensionati che devono fare? Non capire. C'è delle vignette su Google che si ritorna all'asino. L'asino che si cavalca l'asino. E niente più. E' triste. Poi la guerra. Non è che aumenta solo la benzina. Aumenta il tutto. Siamo con Giacinto che ci dice un po' come sta andando. Purtroppo è una questione ormai nazionale. Purtroppo è un problema di tutta Italia. Quindi ogni giorno vediamo aumentare a dismisura il prezzo del carburante. Che purtroppo non è neanche colpa nostra come gestori. Quindi non possiamo farci nulla noi. Dipende allo Stato. Di quanto è aumentata la benzina? Di quanto è aumentato il gasolio? Un bel po'. Ricordo stava a 1,70 e ora è arrivato a 2,40. Simona, c'è stata una diminuzione degli automobilisti e un ricorso maggiore al self-service? Sì. Giustamente con il prezzo che è aumentato la gente per risparmiare va al self. Sì. C'è stato veramente un calo drastico. Cosa ti dicono? Magari si sfogano con te? Abbastanza, sì. Dicono che abbiamo aumentato troppo la benzina quando non siamo noi. È un disastro per tutti quanti. Non soltanto per l'automobilista normale ma per quanto riguarda i mezzi di trasporto che portano merci, che portano tutto ciò che è necessario anche ai supermercati. Difatti si comincia a vedere una certa diminuzione di prodotti ai supermercati.